Mi fa entrao 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 Chiudiamo sta partita e facciamo la finita Ok modello scarico Ora schiacciare così Non so se ti vedo carico Mi sono tutta l'altra me Mi sono tutta l'altra me Mi gioca dall'altra parte Grazie, pubblicità Grazie 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 Checco Ehin Oh Ehin Oh Oh Eh Ehm È espettavolare Noi, dai! Copre! Guarda che filmi da circolazione, guarda! No, aspetta! Giri, giri, giri! Vai, vai! Ora! Viro, bai, viro, bai! Viro, bai! No! Ora! Ora, ragazzi, allora! Viro! Viro! Come and play, viro! Viro, come and play! I'm a player, in the game, and I'm a player, and I'm a player! Viro! Viro, come and play! Viro! 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 5 rigoristi 5 rigoristi 5 rigoristi 5 rigoristi Si è fatto una traversa quasi gol 5 rigoristi 5 rigoristi 5 rigoristi 5 rigoristi 5 rigoristi Come è l'atmosfera in questa furva curta? Calda, calda Caldissima Grazie Publicità Ci perché ègia Manigui Littor C Muslim ha È